E in tempo di crisi economica, quando tutto sembra involvere, c'è chi crede ancora nel futuro e continua ad investire con consapevolezza, conscio delle richieste odierne del mercato. Ebbene, continui lockdown o zone rosse hanno costretto una platea sempre più ampia ad essere più accorta in casa, ad implementare comfort e servizi. Ed è così che la richiesta di macchinette dal caffè relative cialde o capsule ha subito un notevole rialzo. Da ciò, la passione di chi ha sempre investito dedizione ed energia nella cura del chicco, ha trovato maggiore accoglimento. A Trani, così, la nuova sede di Caffè Shop Colorado, per soddisfare le richieste di tutti. La gente all'improvviso si è ritrovata a non poter utilizzare e frequentare i luoghi a loro più cari. E quindi, di conseguenza, il primo momento della giornata, la colazione, non sapeva più dove farla. Quindi, automaticamente, c'è stata un'esplosione di vendita di macchine di caffè, una richiesta. Anche le aziende non riuscivano più a stare dietro alla produzione. I costi, ovviamente, all'inizio sono aumentati. E, di conseguenza, anche il consumo del caffè porzionato è aumentato. È aumentato tantissimo il consumo anche delle bevande, diciamo, cappuccino, nocciolino, queste situazioni che magari nel primo pomeriggio della giornata una persona, anziché farle al bar, adesso le fa in casa. Anche negli uffici, c'è gente che è rimasta in smart working, ha dovuto attrezzarsi di macchine di caffè, oppure comunque capannoni che prima andavano al bar, adesso hanno le loro macchinette nei loro uffici. Un mercato, quello del chicco del caffè, che è travolto dalla globalizzazione, spesso vede l'acquirente rivolgersi all'e-commerce, che se da un lato può garantire comodità e velocità nell'acquisto, dall'altro manca dell'essenziale rapporto umano per una scelta consapevole di miscele prodotti sempre più particolari. Noi invitiamo a rivolgersi presso i punti vendita delle vostre città, perché con noi instaurate un rapporto, vi consigliamo le materie prime più pregiate, vi consigliamo le capsule più adatte alla vostra macchina e non sbagliate, perché purtroppo la gente acquista da internet sui siti che conosciamo già e sbaglia a comprare le capsule, se le ritrova a casa, non entrano nelle macchinette e fa un acquisto sbagliato. Invece venendo da noi nei nostri punti vendita o comunque nel punto vendita della vostra città, esponete la vostra macchina che avete, ve la facciamo vedere, vi facciamo vedere le varie forme, le varie miscele, le varie alternative, abbiamo il cappuccino, il nocciolino, il ginseng, il creme brunet, tante varianti che purtroppo su internet a volte non vengono proposte. Con noi si instaura un rapporto di fiducia, vi diciamo come si pulisce, come si tiene in manutenzione una macchina, perché è molto importante, il caffè esce buono anche perché la macchina funziona bene.